Ciao ragazzi, è come tornata con un nuovo video, questa volta dal titolo un pochino particolare ovvero come avete letto, tutti i pazzi per i coupon e per le Yankee iniziamo subito dai coupon direi, quello che sicuramente tutte ormai conoscete è il coupon relativo alla pupa, al fondolinta della pupa ovvero insomma per chi non lo sapesse spiego al volo, basta collegarsi al sito della pupa e diciamo c'è un test da fare dove potete vedere il vostro fondolinta o BB cream adatti per voi e riceverete un buono sconto che vi farà pagare il vostro fondolinta 10 euro considerando che quasi tutti vengono 19,90 quindi è praticamente pari a uno sconto del 50% che trovo insomma ottimo, non potevo non approfittarne e ho preso questo fondolinta qui e non si vede qui la scritta nera, like it all e fluido make up, perfezionatore effetto pelle nuda ha un SPF di 15 e è questo qui, ve lo faccio vedere è questo qui molto carino e ha la boccettina in vetro io ho preso lo 0,20 e ovviamente lì in profumeria mi sono sbocciati per bene per capire un po' la mia tonalità e mi piace tantissimo il... come si chiama? l'erogatore perché è a goccine, vedete? e secondo me questa cosa fa sì che non ci sia spreco di prodotto oggi, allora ieri già sulla mano quando l'ho provato ci sono davvero rimasta perché è davvero particolare, è molto molto liquido e solitamente a me non piacciono molti fondolinta così liquidi invece già sulla mano, cioè l'ho provato ovviamente sulla mano si vedeva tantissimo la differenza tra una mano e l'altra proprio come aveva compattato la pelle, come l'aveva uniformata ve lo faccio vedere questo qui è il colore ovviamente per la mia cara ragione è un colore molto chiaro tra l'altro è quello che ho su adesso di fondotinta e una volta steso, ovviamente non so quanto si noti e lascia davvero la pelle morbida, uniforme, vellutata è davvero fantastico poi insomma a lungo andare e vi dirò anche in quanto ha durata e tutto quanto ma così di primo acchitto secondo me è davvero un buon fondotinta poi insomma invece di 20 euro pagarlo 10 è ottimo e questa promozione se non sbaglio c'è fino a metà o fine novembre non mi ricordo altra promozione davvero fantastica che ho scoperto tramite un gruppo di facebook in pratica se avete Vodafone o se qualcuno dei vostri familiari c'è là fatevi fare una ricarica perché con una ricarica di almeno 10 euro riceverete un buono di 7 euro da spendere all'OVS vi arriverà un messaggio con delle istruzioni da seguire e vi arriverà questo coupon via mail che voi stamperete e portate all'OVS il buono è sempre di 7 euro al di là di quanto si fa la ricarica se da 10, da 20 o da 50 e quindi io consiglio di farne più di una cioè se tipo dovete caricare 20 fatele due da 10 e per ora l'ha fatta mia madre ma penso la farà anche mio padre la ricarica quindi poi ci sarà un secondo round e per ora insomma l'ha fatta mia madre mi sono presa il buono di 7 euro sono andata a OVS e ho preso qualche cosina allora parto dal make up allo stand essence ho preso questi stickers per unghie che sono davvero molto carini alcuni hanno anche il brillantino tipo c'è il fiorellino che al centro è il brillantino poi insomma mi trovo bene con questi stickers di essence li avevo finiti tra l'altro questi sono anche più belli di precedenti che avevo onestamente e questi vengono ve lo dico perché oggi ho lo scontrino stranamente 1 euro e 69 poi ho preso che ne avevo sentito parlare molto bene questo mascara qui della nuova collezione il lash base è appunto una base per mascara che la sto adorando cioè in questi due giorni l'ho provata ah intanto è particolarissima perché ha questo scovolino bianco come vedete è proprio bianco e le ciglia le lascio bianche subito dopo aver applicato questo va applicato quando questo ancora non è asciutto sto sforzando va applicato il nostro mascara io oggi ho applicato il lash princess ieri l'ho fatto con il pupa bump e ci tengo a far vedere l'effetto come vedete sono ciglia super fighe trovo che sia davvero ottimo e lo voglio provare vedete fa veramente delle ciglia bellissime e lo voglio provare con i mascara diciamo quelli un pochino più sfigatelli che ho e perché secondo me ne vale assolutamente la pena e questo qui veniva 3,19 euro poi e da OVS non so se c'è in tutti gli OVS hanno messo non da tantissimo non stand di accessori che ogni volta mi ci fermo perché ha degli accessori fantastici poi insomma se mi seguite da un po' sapete che sono una grande amante degli accessori oggi non mi do pace con la videocamera ok e questo stand si chiama Mickey London solo che cioè non è che è costoso perché comunque sono prezzi abbastanza abbordabili però ogni volta dico vabbè un'altra collana un altro po' di torecchini e lascio perdere ora con la scusa del buono c'era andata un attimino a vedere perché comunque di essence non c'era nient'altro che mi interessava chissà che gli temi delle altre marche io ho preso una collana che vi giuro è fantastica e l'ho indossata ieri no l'altro ieri non mi ricordo vabbè comunque vi lascio anche a lato la foto di come rimane indossata ed è questa collana qui ha queste diciamo foglioline bordeaux questa parte qui con tutti i brillantini e la catenella dorata che però è una catenella molto particolare perché ha le maglie quadrate anziché delle solite sottili vi giuro è davvero bellissima è piccolina non è di quelle grandi grandi che vanno adesso che a me piacciono ma su di me non ce le vedo cioè non mi ci so vedere quindi ho detto magari iniziamo con una un pochino più piccolina e questa la trovo anche molto elegante insomma poi magari dalla foto capita anche meglio come rimane questa qui veniva 9,99 euro ma tutto lo stand di questa marca era scontato al 50% e quindi l'ho pagata a 5 euro praticamente pagando solamente 2,87 euro perché l'ho sforrato un po' mi sono portata a casa queste tre cosine ora con il prossimo buono dalla ricarica di mio padre non so cosa prendere anzi fatemi sapere se avete qualche consiglio da darmi io vi consiglio se avete un OBS a essere di intorni di fare un salto su quello stand di accessori perché sono davvero bellissimi poi coupon è bassa perché insomma abbiamo rifatto un altro rifornimento di Yankee Candle dopo una grande delusione che avevamo preso avevamo comprato una decina di giorni fa queste candele qui vi lascio qui la foto io le chiamo i moccolotti che sarebbero proprio i candelotti le candele vere e proprio con il filino dove c'è è una candela non è come le tartine che vanno bruciate è una vera e propria candela che ad odorarle così dalla cera profumavano tantissimo quanto le tartine e avevamo preso alcune fragranze che avevamo già preso le tartine e altre nuove vi dico che non profumano assolutamente nulla 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 all'inizio pensavamo che era la nuova fragranza che avevamo preso noi che fosse un po' un flop invece no perché avevamo preso anche alcune fragranze che avevamo già provate e non profumavano assolutamente niente è stato pesante smaltirle perché comunque era inutile c'era sta candela accesa vicino alla televisione inutile perché non profumava allora siamo ritornati cioè avevamo preso queste per un motivo ben preciso perché erano più grandi e convenivano a livello di costo ma la fregatura ovviamente c'era e quindi siamo ritornati alle tartine e ne abbiamo preso qualcuna tra l'altro alcune erano un paio erano in offerta vi faccio vedere intanto quella che abbiamo già aperto che faccio vedere la bustina perché non abbiamo resistito è una tartina tutta rossa che si chiama Chris Massivi ed è un odore molto molto particolare anche una volta acceso rimane molto particolare un po' speziato e buono cioè a me questi odori non fanno impazzire cioè non è fra le mie preferite però buono e questa qui era in offerta e l'abbiamo pagata 1,26 euro che è un prezzo più che accettabile un'altra in offerta è questa qui sempre rossa cranberry ice che ha un profumo buonissimo di cranberry appunto ma è molto molto delicata perché a me di solito queste fruttate non fanno impazzire perché comunque dopo un po' mi disgusta un po' l'odore oddio invece questa è almeno sentirelo così sembra davvero buona e questa qui in offerta l'abbiamo pagata 1,64 euro tutte le altre che adesso vi faccio vedere vengono come tutte 2,10 euro abbiamo preso questa qui amber moon che è questa qui arancione che tra l'altro l'avevamo presa anche con il candelotto con il moccolotto ha un odore davvero buono e delicato ma con quello lì non si sentiva niente allora ci volevamo fare questo sfizio di capire com'era questa anche perché siamo arrivati tipo con il mio ragazzo a una conclusione che quelle più buone sono quelle che non richiamano un odore in particolare cioè non è quella cranberry non è quella che ne so la rosa ma sono quelle diciamo che hanno nomi anche più particolari tipo turquoise sky midsummer night cioè queste che non hanno un odore specifico sono sempre quelle che a noi ci piacciono di più quindi questa amber moon ci ispirava tantissimo e vi farò sapere poi un'altra che sembra davvero buonissima è snow in love che se non sbaglio c'è sempre stata non è natalizia boh non so e quindi anche questa 2,10 euro poi ormai noi stiamo in fissa con questa midsummer night che è in assoluto fra le nostre preferite è veramente buonissima delicatissima e anche di questa avevamo preso il moccolotto e non sapeva assolutamente di nulla 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 e quindi specialmente se le dovete provare per la prima volta perché io penso se le avessi provato queste candele per la prima volta non avrei più comprato nulla della Yankee perché direi è una grande fregatura invece no quindi non acquistate quelle candele perché non ne vale la pena anche se magari uno quando vede il prezzo dice ah cavolo però conviene no e poi sono curiosissima di provare era tantissimo titubante il mio ragazzo su questa alla fine l'ho tipo convinto Christmas Garland che sa di pino no è fantastica secondo me sa proprio di pino sono tipo curiosissima di provarla questa fatemi sapere voi se avete qualche fragranza delle Yankee Candle da consigliarmi e tra l'altro ora abbiamo trovato un sito dove le vendono a minor prezzo si tratta di un sito inglese e il prezzo insomma ve ne parlerò perché penso proprio che faremo un ordine perché 2,10 euro per tartina e considerando che le accendiamo tutte le sere non durano molto quindi insomma è anche un costo poi altri acquistini che non c'entrano con i coupon però insomma ci tengo a farvele vedere sono due di make up e poi degli accessori parto dal make up sono andata a Devers Rocher da che non mi piaceva per nulla adesso sto impazzendo perché è l'omaggio di ottobre sì era una mini acqua micellare con la sua crema idratante abbinata ed era della linea idradegetal è stata un'acqua micellare fantastica tra l'altro lo sto finendo pulisce in profondi del viso non brucia assolutamente gli occhi anche se vado a struccare all'interno della rima della rima interna è fantastica quindi abbiamo preso il full la full size perché anche mia madre era incredula potevamo struccarci senza patire sugli occhi quindi insomma l'abbiamo presa è un'acqua micellare idratante 2 in 1 per pelli normali e miste questa qui e abbiamo pagato 7,95 euro quindi non proprio poco però insomma sono anche è bella domanda 200 ml non lo vedevo comunque con la mini che ci avevano dato che sarà stata 20 ml ci abbiamo fatto 15 giorni quindi insomma penso che questo un pochino ci durerà e quindi si può fare poi da cost che è una marca che ho scoperto che non si riesce a reperire molto facilmente io ho proprio un negozio nella mia città so che molti lo trovano addirittura al mercato io non l'ho mai vista a parte una vita che non vado al mercato ed è questa marca qui cost vi feci vedere ma non ce l'ho qui a portata di mano già in un altro video haul e una tinta labbra fantastica magari se lo trovo vi lascio il link ed erano di quelle che se prendete e dà il bacio non lascia lo stampo cioè si asciuga completamente lascia un effetto vellutato bellissimo e ce l'avevo tipo di un fucsia ho voluto prendere anche un nude davvero molto molto bello ve lo faccio vedere è più un rosa a vederlo così lo swatch eccolo qui a parte dalla videocamera sembra un rosa molto più forte in realtà è molto più tenue e una volta che lo stendo sulle mie labbra è praticamente leggermente leggermente più scuro del colore delle mie labbra e rimane molto bello perché comunque le rimpolpa e si asciuga in fretta e lascia questo strato vellutato sulle labbra che dura per ore e ore e ore se mangiate se bevete è fantastica e questa se non sbaglio viene 4,90€ 4,95€ una cosa del genere ma ve la straconsiglio si chiama Lip Varnish Finish Matte è fantastica 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 e questo è il numero 01 poi passando e pulisco al volo la mano prima che faccio così ok passando agli accessori sono stata dalla mia amata e fidata Bancarella che amo e ho preso delle cose troppo 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 carine allora iniziato con noi dalla più bella ve la faccio vedere direttamente indossato ok è questo bracciale che cioè vedete quante sbrilluccichino è praticamente dei nuovi simili svaroschi e ha questa retina intorno ed entra tutti quanti pagliuzzi sbrilluccichine ma che fanno una luce pazzesca e poi ha la chiusura con questo bottone sempre con i brillantini che è a calamita è carinissimo c'erano tantissimi colori penso che tornerò anche a prenderne altri ma per adesso ho preso un classico ovvero la retina nera con i brillantini argento dentro che come vedete è bellissimo c'era lilla viola bordeaux ce ne erano tantissimi veramente belli belli e l'ho pagato un euro poi ho preso questo e due di orecchini ormai sapete che sono fissa con questi orecchini e ci sono queste palline aspettate che magari ne levo una ci sono questi qua semplici a bottoncino che è una pallina grigio chiara di velluto è carinissima perché mi sa molto d'inverno il velluto non lo so è proprio carina magari sto attenta a non metterla io ho il porta orecchini quelli là diciamo all'aperto non so come definirli invece questi magari li metto in una scatolina perché ho paura che si impolvera molto il velluto e poi l'altro paio di orecchini sono questi qui doppi che ormai sapete che io adoro e hanno da una parte la pallina grande sempre di velluto grigia e dall'altra quella piccola con i brillantini grigi scuri questa va la pallina bianca ah non c'ho manco gli orecchini ve lo faccio vedere vedete che carino che rimane rimane il brillantino sopra e questa pallettina sotto sono tra l'altro leggerissimi anche se magari a vederli così non si direbbe e poi sono multiuso perché insomma questi poi si staccano così se volete potete utilizzare anche solo questo orecchino mettendolo normale con la farfallina dietro questa bancarella voi non avete idea delle cose fantastiche che ha poi la cosa bella è che le cambia spessissimo io ormai era tipo un mesetto forse che non ci facevo un salto e ho deciso che tipo una volta ogni 15 giorni devo andarci gli altri che ho preso sono questi sempre fatti doppi così però sono di un blu elettrico fantastico visto che ho un paio di maglioni di questo colore e non ho orecchini di questo colore strano ho pensato di prenderli e sono appunto questi qui anche questi sono in effetto similvelluto e rimangono davvero carinissimi mi piacciono davvero tantissimo anche questi volendo si può utilizzare anche solo la pallena quindi li trovo tipo a mia madre non gli piace come rimane questo qui tutto quanto diciamo unito così e usa solamente le palline piccole quindi multiuso direi e niente ragazzi questi sono tutti i miei acquistini spero che vi sia stato utile soprattutto sapere di questi coupon in caso non li sapevate specialmente quello Vodafone di 7 euro da OIS insomma non sono pochi specialmente nello stand essence qualche cosina si riesce sempre a prendere e niente ragazzi fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più di questo haul vi mando un bacio e aspetto come sempre i vostri commenti un bacio ciao